Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui un po' per parlare dell'Argentina, un po' per parlare del Portogallo, un po' per parlare di Cristiano Ronaldo e Messi, per capire bene cosa sta succedendo in questo mondiale, perché ho veramente tante cose da dire, alcuni di voi già sanno il mio pensiero, perché ho parlato in privato su Instagram con alcuni ragazzi dell'Argentina e del Portogallo, ma prima di iniziare vorrei un attimo fermarmi e parlare proprio di Lele Adani, perché ragazzi la situazione è veramente imbarazzante, cioè in Italia si creano polemiche su nulla, parere mio personale, io che seguo fin da bambino la Premier League, che qualche volta mi sono visto le partite di Premier League accompagnate da un telecronista inglese, quindi a me l'emozione, le urla, le parole che ha utilizzato Lele Adani non mi sorprendono, perché in Premier ragazzi anche gli stessi telecronisti italiani che accompagnano una partita di Premier League urlano, cioè molte volte abbiamo visto noi il Manchester United, e l'abbiamo visto e ve l'ho fatto anche sentire con determinati telecronisti italiani e quando segnava lo United o segnava un'altra squadra contro il Manchester United, questi telecronisti impazzivano, tipo Massimo Marianella è uno di quelli che quando gli epi ai 5 minuti, se il gol è un gol bello, è un gol importante, impazzisce, ok forse non urla come Lele Adani, ma impazzisce, parliamoci chiaro, è così, il telecronista nasce nel mondo del calcio per accompagnare la partita, ma non solo per accompagnare la partita, mio pensiero personale, il telecronista nasce anche per fare emozionare e per fare entrare all'interno della partita delle persone che non tifano né una né l'altra squadra, in questo caso Lele Adani sapevamo che è molto innamorato di Messi, ma come è innamorato di Cristiano Ronaldo, perché adesso apro e chiudo parentesi, ci sono molti fan di Cristiano Ronaldo che dicono ah vedi però se lo faceva Ronaldo non esultava così, non è vero perché io mi ricordo, mi sembra era Atletico di Madrid e Juventus, dove Cristiano Ronaldo fece quei 2-3 dribbling pazzeschi e poi tirò e la palla andò fuori, vi ricordate le parole, il tono utilizzato da Lele Adani per descrivere quella giocata lì, per descrivere il giocatore che è Cristiano Ronaldo, quindi non è che l'ha fatto solo con Messi, dopo è ovvio che l'importanza del gol, la situazione, ha creato quel modo di gestire quella partita lì per Lele Adani, perché è impassito totalmente, ma ragazzi tornando al discorso precedente ci sta, perché per me il telecronista deve prendere lo spettatore e farlo entrare nella partita. E io personalmente quando Lele Adani, insultato in quel modo, ha raccontato grandissime virgolette, la storia di Messi, ha fatto venire i brividi, mi ha fatto venire i brividi, non solo a me, ma anche, stavamo guardando la partita, io, mio padre e mia madre, anche a mia madre e a mio padre, perché determinate sensazioni, determinate parole sono state utilizzate nel modo giusto. E questo deve fare il telecronista, deve utilizzare le giuste parole nel momento giusto. Poi dopo qui possiamo dire, forse però è esagerato ad urlare, quello sì, quello vi posso dare pure ragione, forse ha urlato troppo, sembrava più un telecronista di casa, più un argentino, perché in quel caso un argentino avrebbe spaccato tutto, mettete caso che era un Messico-Italia, e agli italiani, a noi italiani ci serviva un gol per sperare ancora nella qualificazione, segnava un barella da fuori aria, un telecronista italiano come Fabio Caressa impazziva, ma perché lì è ben giustificato, perché è la propria nazione. In questo caso, Lele Adani non è argentino, si è sempre professato e amante dell'Argentina, parla sempre degli argentini, si sente a casa quando parla dell'Argentina, in sé per sé, è impazzito come un vero tifoso, io non ci trovo nulla di male, cioè io non capisco il pretendere di licenziare Lele Adani, c'è sentito persone su TikTok e su YouTube dire basta, questo viene da via, licenziatelo, e la maggior parte di questi era gente che non faceva un discorso logico, non c'era un discorso logico su quello che dicevano, perché io ho sentito uno su TikTok dire eh, la Rai è stata sempre accompagnata da grandissimi telecronisti e adesso ci metti uno come Lele Adani, dove? Negli ultimi anni i telecronisti della Rai sono presi per il culo da tutta Italia, non me ne vogliano, ma è la verità, sbagliano, io preferisco uno che mi assunta come un pazzo, sgravato, quando mi segna l'Argentino, o mi segna il Portogallo, o mi segna la Germania, però che mazzecca i nomi, non uno che per 90 minuti me sbaglia su 30 nomi, su 22 nomi, me ne sbaglia che cacchio ne so, 17, preferisco avere uno pazzo, ma che i nomi me li azzecca, perché alla fine il lavoro del telecronista è quello ragazzi, il lavoro del telecronista è raccontare la partita, raccontare determinate vicende di alcuni calciatori, ma soprattutto la cosa fondamentale che deve fare un telecronista è quella di fare entrare all'interno della partita, non i tifosi di quella determinata squadra, perché è troppo facile, io che guardo il Manchester United contro un Wolverhampton, io che sono tifoso, sono già all'interno della partita, il telecronista deve avere il ruolo e ha la mansione di fare entrare all'interno della partita, chi non tifa né il Manchester United, né il Wolverhampton, chi non tifa quelle squadre che stanno giocando proprio in quel momento lì, questo è il vero ruolo del telecronista e i telecronisti della RAI queste cose non le fanno manco all'europeo, perché io vi faccio esempio, l'europeo me lo sono visto su Sky per farvi capire, questa non è una denuncia la RAI, però è una cosa che non ha senso, i discorsi che fanno alcune persone in questo preciso istante non ha senso, ma perché sappiamo come è fatto il mondo del web, allora vediamo una cosa che non ci piace, allora diciamo che quell'altra cosa che fa schifo va bene uguale, non è così, perché se bisogna licenziare le ladane per i termini, per i modi, bisogna anche cacciare determinati telecronisti, non farò nomi, della RAI che sono imbarazzanti, vi ripeto, perché un telecronista che mi sbaglia su 11 nomi di una determinata squadra me ne sbaglia 7, come faccio ad entrare all'interno della partita se quando pia palla Alisandro me lo chiama Romero e quando pia palla Romero me lo chiamo Tamendi, cioè non ha tanto senso come cosa, quindi io la mia l'ho detta, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ora parliamo ragazzi dell'Argentina e del Portogallo che è un discorso molto simile, dovrò fare un discorso molto simile per entrambe le squadre, perché mi preoccupano, allora sapete che io spero con tutto il cuore che l'Argentina e il Portogallo possano fare un percorso lungo in questo mondiale, perché comunque sia l'ultimo mondiale di Messi, perché comunque sia l'ultimo mondiale di Ronaldo, perché in Argentina c'è Lisandro, perché in Portogallo c'è Bruno, quindi spero con tutto il cuore che entrambe vadano avanti il più possibile, però così non andranno avanti, cioè parliamoci chiaro, queste due squadre sono veramente orribili, soprattutto l'Argentina, ma prima di parlare dell'Argentina parliamo un attimo del Portogallo, allora, il Portogallo è una squadra che negli ultimi anni ha dei problemi a livello di gioco, vedendo i calciatori, perché molti dicono che l'Argentina sia più forte del Portogallo, ma non è così, non è assolutamente così, perché il Portogallo ha una squadra che a livello di singoli potrebbe veramente far girare la testa a tutte le squadre, non perché ha i giocatori più forti, ma perché ha giocatori che sono bravi a tenere palla e hanno giocatori bravi a fraseggiare tra di loro, possiamo prendere per esempio Bernardo Silva, Bruno Fernandes, già solo questi due insieme a Cristiano Ronaldo fanno un tridente spaziale, perché un destro come Bruno e un sinistro come Bernardo che accompagnano un attaccante come Cristiano Ronaldo, poi non ci sono solo loro, c'è Rafa Leao, giocatore eccezionale pallalpiede, c'è Joao Felix, c'è Joao Cancelo, Ruben Neves, ci sono giocatori di una qualità ragazzi incredibile, incredibile, tantissimi altri e non solo questi, ma questa squadra non gioca, questa squadra non gioca a calcio, questa squadra non ha idee, sicuramente ha più idee dell'Argentina, ma non ha idee di questa nazione, cioè vedere un Portogallo cana gestito in quella maniera è veramente orripilante, perché il Portogallo ha un difetto negli ultimi anni gravissimo, che io ragazzi l'ho visto ormai da tanto tempo, mi hanno criticato su TikTok quando ho parlato dell'allenatore del Portogallo dicendo che per me questo Portogallo non farà strada al mondiale e continuo a pensarlo per colpa proprio di quell'allenatore, perché sì, quell'allenatore lì ha vinto col Portogallo, ha fatto il suo percorso ma non è adatto a far vincere questa nazione qui per com'è in questo momento il Portogallo, perché contro il Gama non è la prima volta che lo vediamo, il Portogallo è disunito, noi abbiamo gli attaccanti che stanno dentro l'area di rigore o comunque sia vicino ai difensori avversari, poi abbiamo 30 metri di distacco tra l'attacco e il centrocampo, cioè il centrocampo ha attaccato la difesa ma l'attacco è completamente dall'altra parte del campo ed è una roba imbarazzante perché quando un giocatore come Bruno Fernandes o Bernardo Silva prende palla e cerca di andare a sostenere l'attacco non riesce perché stanno troppo distanti tra di loro, non c'è connessione, non c'è gioco, questa è una squadra che veramente lo ripeto e non non mi nascondo l'ho sempre detto questa è una squadra che può far girare la testa a tutti anche alla Francia perché ha dei giocatori bravi palla al piede e non tutti hanno questi calciatori il problema è che non riesce a metterli in campo perché quando io per l'ennesima volta mi vedo questo maledetto 4-3-3 quando tu hai Bruno e Bernardo Silva in campo mettendo Bernardo Silva centrocampista centrale vicino a Ruben Neves e Bruno Fernandes ha la destra significa che tu non riesci a capire i giocatori che hai in campo ma non è che non lo riesci a capire non lo vuoi capire perché poi tu nel secondo tempo contro il Ghana cosa fai? Cambi metti finalmente Bruno sulla tre quarti metti finalmente i giocatori come devono stare in campo e la partita la vinci poi vabbè errori difensivi a parte ma la difesa è il Portogallo lo sappiamo non regge cioè chi tifa Portogallo lo deve sapere da principio la difesa il Portogallo è imbarazzante l'ha sempre fatto vedere l'ha sempre dimostrato e questa difesa non riesce a reggere gli attacchi quindi sappiate che un Portogallo Francia il Portogallo fa sempre più gole dei francesi perché il Portogallo è una squadra che in difesa non va bene non va bene ma mai da tempo quindi la difesa è una cosa che tu non puoi sistemare in questo momento perché i giocatori sono quelli nascono per attaccare nascono per andare su e non ci puoi fare nulla non ci puoi fare veramente nulla però il centrocampo all'attacco che sono la forza di questa squadra devono saper giocare e non è possibile vedere una cosa del genere vi ripeto se Portogallo continua così non la vedo bene e mi dispiace mi dispiace perché questa è una squadra che ha veramente tutte le potenzialità non dico per vincere il mondiale ma per arrivare alle semifinali può arrivarci ma non va bene così non va assolutamente bene fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate adesso andiamo proprio sull'Argentina l'Argentina allora io l'ho seguita in Copa America l'Argentina in Copa America era puro divertimento l'Argentina in Copa America ti faceva divertire al mondiale uno che mi dava un carcio sui coglioni mi faceva meno male cioè veramente ieri ma non solo ieri anche con la rabbia saudita nel secondo tempo una roba imbarazzante cioè ci stanno giocatori che camminano c'è gente che proprio non si muove ci sono persone i calciatori che non riescono a capire quello che devono fare disunita proprio anche l'Argentina anche ieri no uno che ho sedito le ladani che ha elogiato De Poole a me De Poole ieri per i primi 60 minuti mi ha fatto cagare a striscio cioè ieri il centrocampo completamente disunito veramente giocatori che non si muovono questa squadra ha iniziato questo mondiale senza idee Scaloni deve fare qualcosa perché il Portogallo almeno ha un'idea brutta perché è un'idea brutta perché è praticamente centrocampo e difesa dietro e attacco lontano e poi si cerca di trovare un'intuizione di un singolo questa è l'idea del Portogallo però almeno c'è un'idea i giocatori sanno dove devono andare e quello che devono fare in mezzo al campo l'Argentina e Scaloni non ha idea di quello che deve fare l'unico giocatore che ha idea su quello che deve fare è Messi che anche ieri molte persone l'hanno criticato per la prestazione ma ieri Messi cercava di fare cercava di creare ma se poi passa la palla a quello io per esempio ho visto quell'azione dove Messi ha lanciato la palla in profondità e c'è il terzio sinistro che non ha seguito l'azione di Messi e quindi la palla è uscita cioè ci sono dei giocatori che non seguono le direttive non fanno quello che devono fare gli unici giocatori che sono all'interno degli schemi Maria Messi anche Lautaro che a me sapete mi piace tanto lo vedo proprio fuori fuori dagli schemi non sa quello che deve fare quello che non deve fare come si deve muovere non è una cosa possibile ragazzi cioè anche l'Argentina in difesa pecca ma davanti è paurosa queste due squadre che noi puntiamo tanto per Messi Ronaldo non hanno un gioco cioè noi prendiamo il Brasile il Brasile c'ha un'idea non tanto un'idea perché come ho detto prima il Portogallo l'idea ce l'ha il Brasile c'ha proprio sa di avere le qualità e non ha paura ti bombarda ti tira da tutte le direzioni possibili non ti fa respirare la Francia la stessa cosa ok uno mi può dire vabbè però il Brasile e la Francia sono più forti del Portogallo e dell'Argentina e su questo a livello dei singoli e su questo mi posso dare ragione ma non è possibile vedere un Brasile tutti dietro con la speranza che un singolo si inventa qualcosa in Argentina che non hai idee perché un mondiale così non lo vinci non lo vinci deve cambiare qualcosa deve assolutamente cambiare qualcosa fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate ma soprattutto fatemi sapere se volete io ho pensato di fare tipo delle sorte dei pagelle dei giocatori dello United in questo mondiale che potrebbe essere figa come idea fatemi sapere comunque qua sotto poi a post Cironi quando inizieranno le partite quelle serie 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 inizieranno dei video appositi per determinate squadre non vi preoccupate tutto sta ragazzi che vi vedo male a mo il Portogallo all'Uruguay segnatevela se il Portogallo non gioca in una maniera diversa l'Uruguay è brutta ragazzi io l'Uruguay vi ripeto ha giocato male la prima l'Uruguay è pericolosa il bene e il male sono sempre i giocatori che hanno la garra hanno sempre voglia di far male soprattutto se c'è il Portogallo di mezzo se ci stanno le squadre loro si gasano è un po' quindi speriamo per Ronaldo che questo Portogallo si svegli perché come Messi perché se no qui va a finire male questi non vanno avanti finisce il mondiale già agli ottavi quindi ragazzi fatemi sapere con un commentino qua sotto cosa ne pensate io vi saluto e vi ringrazio per la visione di questo video ciao raga